Oggi vi porto questo vlog più che altro per chiedervi un parere Come molti di voi sanno da un po' di tempo ormai è uscito questo nuovo capitolo della saga di Dragon Ball Parlo chiaramente del gioco ovvero Dragon Ball Xenoverse Che inizialmente non m'era piaciuto particolarmente perché io da buon amante di Dragon Ball Come un po' tutti penso durante l'infanzia abbiamo amato Dragon Ball Tu, si ce l'ho proprio con te Non hai amato Dragon Ball? Non ti piace Dragon Ball? E allora chiudi il video, cammina Ora, ho detto ora, perfetto Quindi detto questo inizialmente non mi aveva particolarmente fatto impazzire questo gioco Perché io comunque mi sono visto tutti i Dragon Ball che sono usciti Da Dragon Ball con Goku Piccolo a Dragon Ball GT Ho giocato praticamente tutti i giochi all'epoca della Play 2 E quindi adesso chiaramente inizialmente mi ha fatto un po' effetto questo nuovo titolo Perché comunque non mi aveva fatto impazzire la storia del modificare quella che è stata appunto la storia di Dragon Ball Poi però ho guardato vari gameplay, ho visto che in molti l'hanno portato E quindi mi chiedevo se a voi piacerebbe averlo sul canale Chiaramente a me non costa nulla Io amo, ho sempre amato Dragon Ball Non ci ho mai giocato a sto gioco però potrei prenderlo per portarlo su YouTube Questo però me lo dovete dire voi Quindi io vi pongo questa domanda Voi nei commenti cosa dovete fare? Semplicemente dirvi se vi piacerebbe o meno che vi porti in futuro questo gioco Chiaramente a me non costa nulla Lo vado a comprare, registro e pubblico il video Magari ci facciamo un po' tutta la storia se la riprendiamo E ci facciamo questa nuova serie Voglio chiaramente sapere solamente la vostra opinione Perché ripeto come ho già detto a me farebbe solamente piacere Quindi ragazzi questo vlog è stato abbastanza rapido Non so di quanto verrà ma penso di pochissimi minuti Per il momento è tutto, noi ci vediamo con i prossimi video Bella